Con il sindaco questa mattina i precari della scuola che sono attivi ormai da mesi hanno ostilato un documento presentato fra l'altro anche la settimana scorsa all'onorevole Tajani. Che cosa è successo poi stamattina con il sindaco? Questa mattina siamo stati ricevuti dal nostro sindaco che si è offerto di supportarci con un documento che sarà ritratto dal suo ufficio stampa, supervisione di noi docenti del direttivo così da mandare a tutte le forze politiche. Questo documento arriverà in governo, chiederemo l'appoggio anche dei dirigenti scolastici provinciali, tutta la provincia, in quanto è un problema che riguarda tutti, che riguarda tutte le scuole, perché a settembre dovrà riprendere la didattica e per evitare che ci siano ancora confusioni, ancora problemi oltre a quelli legati al coronavirus, speriamo che con questo documento in qualche modo si accelerino un po' quelle che sono le nostre richieste. Le richieste, come abbiamo già detto, sono quelle di rivedere le nuove graduatorie provinciali che ci penalizzano in maniera molto forte e poi straordinario che non ha niente di straordinario in quanto abbiamo esposto proprio anche al sindaco il fattore inglese, che viene fatta una domanda importantissima di B2, l'inglese, che non ha niente a che vedere con le nostre discipline, a parte quelli che insegnano le materie di lingua. E quindi il sindaco si è offerto insieme all'assessore all'istruzione di supportarci in questo percorso, quindi siamo molto grati. Intanto si va avanti, che cosa pensate delle dichiarazioni del ministro Azzolina rispetto al fatto che a settembre sarà tutto regolare? Per quanto mi riguarda e penso di parlare a nome un po' di tutti, è quasi impossibile che sia tutto regolare. La ministra sembra faccia tutto facile, queste assunzioni, 78 mila assunzioni, non so da dove verranno fuori queste assunzioni, in quanto non so come farà anche a fare questi concorsi che ha proposto e oltre a essere veramente difficili, come abbiamo visto, che non aiutano in particolar modo nemmeno i docenti precari. La ministra ha detto che ha trovato degli spazi per le scuole, i banchi e tutto, ma anche ora parlando col sindaco stanno ancora vagliando quelli che possano essere, abbiamo capito, i luoghi da poter dare alle varie scuole. Sicuramente Siena ha dei palazzi bellissimi, ha fatto presente anche lui, gli piacerebbe rivalorizzarli proprio in questa situazione, per evitare quella che sarebbe la didattica a distanza, che questo è quello che ci preme tornare a scuola. Assolutamente importante per i ragazzi, ma anche per i docenti. È della settimana scorsa la notizia che a Pisa il rettore dell'università ha offerto le aule dell'università per far andare i ragazzi a scuola. Una querel che poi si è sviluppata fra rettore e sindaco, perché il sindaco non ammetteva un'ingerenza di questo tipo. Voi che ne pensate? L'università di Siena potrebbe avere a disposizione dei locali, potete avere in mente qualche spazio che potrebbe essere utile da utilizzare per le scuole? Allora, per quanto ci riguarda non credo che abbiamo noi delle informazioni così precise da dare in questo contesto. Sicuramente sappiamo tutti che a Siena ci sono dei palazzi che sono inutilizzati e quindi potrebbero essere, se sono a norma, dedicati alla scuola. L'università ha ampi spazi, speriamo che ci venga incontro, anche perché tu hai detto una cosa importante, la didattica in presenza è importante per i ragazzi e per i docenti, ma anche per le famiglie, perché tornare a scuola vuol dire che le famiglie possano riprendere il proprio lavoro senza dover prendere permessi, senza dover avere buoni per la babysitter e quel che è per curare i propri figli, per prendersi cura dei figli a casa. Quindi per cui credo che una soluzione vada trovata in tempi rapidi. Non ho capito bene il ministero come si sta muovendo, quello non si capisce che ogni giorno arrivano notizie diverse da parte della ministra, che però si dice sempre convinta e capace del suo ruolo. Ecco, allora, due domande. La prima sulla CGL. La CGL ha detto che è improbabile che si torni in aula a settembre. Secondo voi questa può essere un'affermazione condivisibile e vera. La seconda, proprio in merito all'università, l'università di Siena comunque sta chiedendo dei luoghi, sta chiedendo degli spazi per i suoi immatricolati. Quindi anche qui viene una domanda, se l'università di Siena chiede questi spazi, come si può risolvere questa situazione? Rispondere Elena. Il problema generale non è soltanto della scuola, è in generale dell'istruzione. Chiaramente, per quanto riguarda la scuola, i problemi verranno al pettine sicuramente a settembre. Quindi ciò che dice la CGL è assolutamente vero e assolutamente condivisibile. Oggi stiamo assistendo a una serie di cose della ministra, secondo cui la scuola ripartirà sicuramente. Bisogna capire in che termini e come e dove vede questa sicurezza e dove la trova questa sicurezza. Ecco, anche perché il precariato è un punto importante. Il fatto è che non sappiamo quando ci richiameranno, come ci richiameranno, perché con questi nuovi gradatori dovrà essere rivisto tutto il punteggio, saranno fatti subito dopo dei ricorsi. Quindi non è che noi, come ha detto lei, dal primo settembre i docenti sono tutti in cattedra. Voglio ben vedere, specialmente con noi precari siamo la gran parte della scuola italiana, perché siamo 200.000 precari, dicevamo stamani. In Italia, nella provincia di Siena, siamo un numero veramente esagerato. Basta che andate nelle scuole a vedere quanti sono quelli stabilizzati e quanti siamo noi. Per farvi capire è quasi impossibile già la chiamata e far sì che il 15 si possa tornare tutti a scuola. Questo è un problema nel problema. Siete ancora dell'idea di andare a Roma a portare la vostra protesta? Siamo ancora dell'idea di andare a Roma. Stiamo decidendo una data importante, perché vorremmo essere tanti, vorremmo dimostrare il numero reale. Noi, come direttivo, proponevamo di portare intanto il nostro documento al Ministero. Però, siccome è un lavoro che stiamo portando avanti con altre città d'Italia, cerchiamo di tenere tutti la stessa linea per poter essere più forti. Ecco, questa è la nostra missione. Che tempi vi siete dati con il sindaco e l'assessore? No, con il sindaco e l'assessore brevissimi. Si è reso disponibile l'ufficio stampa a creare questo documento, che poi noi riguarderemo e insieme lo firmeremo. Ci ritroveremo qui per la firma e chiederemo, come ho già detto, il supporto dei dirigenti scolastici e sono degli elementi importanti in questa situazione di disagio.